Ciao ragazzi, bentornati nella tua avventura Questa sera non dico su, ma dico su in cucina In cucina Allora ragazzi, voi conosciate il mcdonald, giusto? Ok Se conosci il mcdonald e ci l'ha già mangiato Me lo scrivi in commenti Quindi allora, oggi proviamo a fare la salsa del mcdonald Come si fa? Mmm, ottima domanda Si fa con, per tutto, maionese Poi si fa con il ketchup Sì, lo so Poi si fa con la paprika dolce Poi si fa con aglio macinato E per ultimo, non meno importante L'aceto Aceto Tipo ora, ora possiamo cominciare Ok ragazzi Ora portiamo con un cucchiaino E' una mini bacinella Se volete fare una poca Se volete fare una tanta Dovete fare una bacinella tipo Così Dai, scherzo Allora, si fa prima di tutto così Prima di tutto si fa così Si apre la maionese Io, visto che non gli fa poca Ne metto sotto un cucchiaino E mezzo Ok, uno E uno e mezzo Perfetto Ora richiudiamo No Ora richiudiamo La maionese E ora ragazzi Questo Lo lascio qua E adesso ragazzi Dovamo metterci i ketchup Ok Ok Poi Poi ora Si mette La fabbrica dolce Ok Allora ragazzi Lo so E' molto Complicato Più o meno Se avete Tutte le robe Non sarà complicato Però se Se non ce l'avete Tutte Sarà un pochino complicato Mi dispiace per voi Dopo Si mette Aglio macinato Poco Poco Pocchissimo 3, 2, 1 Così può bastare Poi ragazzi Si mette L'aceto Aceto di vino bianco Ok Qui Eh Quindi Qui Dovamo mettere Un cucchiaino E mezzo Pure con questo Quello Ci deve mettere Un cucchiaino E mezzo Come questo Quindi Allora Si fa così Poco Eh Ok Ultimo Goccetto Allora Facci già Una puzza Incredibile Teceto Sto io Ora Ah boh Ma so così Questo Questo lo Chiudiamo Questo lo Chiudiamo E ora Ragazzi Come vedete Ora Dobbiamo Mescolare Quindi ora Mescoliamo E già Dall'odore Non mi piace Però Ah Ragazzi Ma Ma Non si sa Dall'odore Si è venendo Buono Buonissimo Mescoliamo Ancora Ok 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 E ora E ora Ma se Tornatino Facciamo così Ok 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 ragazzi Ora Dobbiamo Assaggiare 3 2 1 No No ragazzi E' buonissimo Quindi Ragazzi Io Io Invito a lasciare Like Iscriversi al mio canale Cliccare la campanella Se non l'avete ancora fatto E noi Con la nostra Buonissima Sorsa Del McDonald Che sembra Che sembra Quasi Bobito Ci vediamo Nel prossimo video Ciao